Sardo, lo Stato ha detto sì ai funerali di Stato per Placido Rizzotto, allora l'unità si è molto spesa per questa cosa, che cosa significa una decisione di questo genere? È una decisione molto importante che fa onore al governo e che raccoglie un sentimento di cui l'unità si è resa strumento. Noi siamo stati artefici di questa campagna per le esegue solenni a Placido Rizzotto, però siamo stati strumento proprio perché c'è stata una grande adesione e un grande senso di solidarietà. Placido Rizzotto è un giovane sindacalista, appena reduce dalla battaglia partigiana, che a Corleone e a Palermo stava cercando di rimettere insieme il sindacato, principalmente un sindacato di lavoratori agricoli, di braccianti, e fu ucciso nel 48 proprio di questi tempi, 64 anni fa. La mafia lo uccise perché le sue parole erano pericolose e lo uccise e cercò di occultare i suoi resti ai familiari e agli amici. È stato un po' l'inizio di una catena di omicidi mafiosi che poi ha disseminato tutta la storia della nostra Repubblica. Non è vero che i funerali solenni sono il tributo a un uomo sconfitto oppure sono soltanto una questione simbolica, è un modo per ribadire un impegno invece di una intera comunità su questo tema. La legalità, la lotta alla mafia sono condizioni essenziali non solo per la nostra vita civile, per la qualità della nostra democrazia, sono essenziali anche per la possibilità di riscatto, di crescita del Paese. Io penso che sia un grande atto di identità collettiva quello di riconoscere gli onori a questo ragazzo che allora fu ucciso dalla mafia per la battaglia che stava compiendo nella società.